Allora innanzitutto grazie per averci dato la possibilità e l'opportunità di confrontarci su un tema che prima di tutto è un tema etico, non soltanto un tema normativo e credo che sia fondamentale aver partecipato ai lavori di questa mattina perché quello che ci è stato raccontato ha reso chiaro il motivo per il quale è importante ed è fondamentale che le legislazioni nazionali si occupino di questo tema, perché purtroppo siamo in un'epoca nella quale si tende a disumanizzare i processi, si tende a disumanizzare noi stessi e invece dobbiamo riportare anche attraverso gli atti normativi la consapevolezza e la di quello che significa progresso e significa andare avanti e quindi fino a che punto vogliamo che il progresso incida sulle nostre vite e soprattutto sull'individuo che non possiamo dimenticare non è semplicemente un insieme di cellule ma è molto di più e questo alle volte purtroppo attraverso i processi scientifici sembra essere dimenticato. Ora l'Italia da questo punto di vista può sicuramente e anzi credo già lo sia un punto di riferimento per la presa di coscienza del tema etico e la trasformazione di questo tema etico anche in normativa perché la proposta di legge che noi avevamo già fatto all'epoca della scorsa legislatura quando eravamo partito di opposizione sulla dichiarazione di reato universale della maternità surrogata oggi governando l'Italia indubbiamente può diventare un primo recinto all'interno del quale dare delle regole e questo credo che sia un elemento fondamentale quindi sicuramente sì l'Italia può essere ed è un faro da questo punto di vista e lo è perché si preoccupa innanzitutto di una cosa la norma che ovviamente insomma come tutte le norme diciamo traduce in parole quello che in realtà è il nostro sentire fa una cosa chiarissima cioè mette al centro la persona l'individuo in varie sfaccettature perché noi abbiamo da un lato la necessità di proteggere i minori e dall'altro lato la necessità di proteggere le donne che sono poi oggetto diciamo di quello che dal nostro punto di vista è sicuramente un abuso psicologico e quindi tracciando la linea e il solco dell'intervento normativo all'interno di questo obiettivo principale cioè individuare come priorità assoluta la tutela della persona ripeto minore o donna in realtà si ottiene poi l'effetto anche del tutelare nel miglior modo possibile la famiglia e la crescita della della famiglia e quindi noi abbiamo iniziato questo percorso perché riteniamo che la tutela di questi principi e la messa al centro del nostro agire politico della persona umana deve essere la guida per tutte le normative è assurdo oggi pensare che sostanzialmente attraversando il confine o andando in altri posti del mondo si possa fare quello che secondo noi è un reato ed è un reato perché è un abuso a tutti gli effetti a livello fisico a livello psicologico perché la donna viene disumanizzata e noi invece vogliamo tornare ad avere nella nostra cultura politica innanzitutto l'umanità l'umanizzazione di quello che siamo l'umanizzazione delle norme che possono da questo punto di vista e devono da questo punto di vista tutelare tutti soprattutto i più deboli perché non dobbiamo mai dimenticare che quando si parla di minori e quando si parla di donne parliamo di dei soggetti più fragili della nostra società e quindi ancora di più la nostra attenzione la nostra tutela deve essere rivolta nei loro riguardi